Quelle aquile mi deconcentrano Taglia! Mi prendi il latte di soia? Avete presente quei film che vi tengono incollati allo schermo? Sono Nor Williams, vi svelerò i segreti dei più incredibili effetti speciali e vi farò conoscere i pazzi visionari che li hanno realizzati Benvenuti nel magico mondo del cinema Così si fa! Provalo! Science of the Movies, una nuova serie venerdì alle 21 su Discovery Channel Grazie a tutti!